Buon pomeriggio e bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura andiamo all'Aquila dove questa mattina è arrivato a Palazzo Silone l'ambasciatore americano John Phillips che ha incontrato gli studenti abruzzesi che hanno frequentato la Wayne University di Detroit, il servizio di Filippo Tronca. Grazie Presidente, sono molto lieto di essere venuto in Abruzzo a incontrarvi oggi. Essendo l'ambasciatore degli Stati Uniti spero di avere l'opportunità di vedere e incontrare tutte le regioni dell'Italia. Sono tutte diverse e tutte molto interessanti. Prima giornata abruzzese per John Phillips, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, accolto a Palazzo Silone all'Aquila dal Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. Motivo principale della visita è l'incontro con gli studenti dell'Università dell'Aquila che grazie al progetto Wine in Abruzzo hanno svolto master e programmi di ricerca nella Wayne State University di Detroit. Mentre sono stati 450 gli universitari americani che hanno studiato la lingua italiana nei campus estivi di Gagliano Aterno in provincia dell'Aquila. Ora sono contento di incontrare le persone che considerano l'Abruzzo la loro casa e che vogliono sottopormi le questioni relative a eventuali incontri, investimenti, attrazioni degli Stati Uniti qui. Sono contento di essere qui e di vedere come l'Italia si pone e sono anche molto dispiaciuto per quello che è successo per il terremoto, per questa tragedia che c'è stata. Aggiunto da Alfonso, Wayne Abruzzo è una formidabile esperienza di formazione e internazionalizzazione che produce i cittadini di un mondo nuovo. A seguire l'ambasciatore ha fatto visita al centro storico dell'Aquila, prossima tappa pescara. Al nostro microfono l'esperienza di studio negli Stati Uniti dalla voce di una protagonista. Io sono stata negli Stati Uniti per fare parte della ricerca della mia tesi di laurea magistrale ed è sui trasporti e sulla città di Detroit. Quindi insomma è stata una bellissima esperienza anche perché mi sono dovuta confrontare con una realtà totalmente diversa da quella nostra. La differenza che maggiormente ti ha colpito? Beh è tutto molto più grande, è tutto pensato molto in maniera megalomane, tra virgolette, come magari si può vedere dai film e così, però gli italiani sono molto ben visti quindi una cosa positiva l'abbiamo trovata. Cambiamo argomento, scongiurare la realizzazione di un inceneritore in Abruzzo. Gli ambientalisti lanciano l'allarme alla luce di quelle che sono le disposizioni del governo contenute nel decreto Sblocca Italia. Il servizio di Francesca Romana Testi. Ancora una battaglia degli ambientalisti contro il decreto Sblocca Italia. Questa volta, a finire sotto la lente, è il caso degli inceneritori che nel caso dell'Abruzzo richiederebbe la realizzazione dell'impianto per una produzione di 121.000 tonnellate così come pubblicato tra i dati ufficiali. Il governo nazionale vuole imporre all'Abruzzo l'inceneritore che attualmente non ha. Lo fa attraverso il decreto Sblocca Italia, approvato nel 2014, è un decreto attuativo che in corso di Varo, da parte del governo nazionale, la regione Abruzzo ci ha detto che rivedrà il suo piano regionale dei rifiuti ed escluderà il ricorso all'incenerimento. Peccato però che il governo nazionale ha chiarito in un documento del Ministero dell'Ambiente che le regioni dovranno adeguare i propri piani al volere del governo nazionale. Quindi ci sarà un'imposizione, non ci si potrà confrontare col governo, decidere cose alternative. Bisognerà attuare, lo dice nero su bianco il governo, in questo documento, bisognerà solo attuare le scelte governative. Quali possono essere le conseguenze sull'ambiente della realizzazione di un inceneritore? Le emissioni in atmosfera. L'Italia è stata chiusa praticamente per settimane per la questione delle polveri sottili e il governo che fa, invece di ridurre le emissioni, ne fa produrre altre. E' veramente una follia da parte di questo governo che deve essere rigettata in pieno e subito dalla regione Abruzzo e da tutti gli enti territoriali. Adesso la cronaca. Una donna di 76 anni originaria di Campobasso è stata trovata morta nella sua abitazione in via Carlo Alberto dalla chiesa Pescara. La morte dovrebbe risalire a una quindicina di giorni fa e in base ad una prima ricostruzione sarebbe dovuta a cause naturali. Il corpo trovato in cucina era già in stato di decomposizione. A lanciare l'allarme questa mattina sono stati vicini di casa preoccupati perché non vedevano l'anziana da alcuni giorni ad insospettirli anche il cattivo dovere che arrivava dall'appartamento. Grazie alla dotazione di tablet che renderanno possibile l'accesso diretto alla sala operativa saranno più efficienti del 40%. Le operazioni delle volanti della questura di Pescara l'iniziativa arriva grazie al contributo dei privati con la Pescara Calcio che si è fatta promotrice diretta del progetto Mercurio. Vediamo. Secondo i dati della questura di Pescara il primo trimestre 2016 si apre con una diminuzione dei reati di lesioni dolose e violenze sessuali. A diminuire sono anche i crimini contro il patrimonio come scippi, furti in esercizi commerciali, furti di auto, ciclomotori. Diminuiscono anche le estorsioni, le truffe e le frodi informatiche dati che riportano l'attenzione sull'efficacia della presenza sul territorio sul monitoraggio costante da parte delle forze dell'ordine e oggi alla presenza del prefetto di Pescara, del questore e del presidente della Pescara Calcio arriva una notizia sull'implementazione dell'efficacia delle volanti che entro due mesi verranno dotate di nuovi strumenti per ottimizzare le operazioni delle unità mobili. Si tratta di tablet collegati con tutti i dati delle centrali operative. Il fatto di poter utilizzare una strumentazione all'avanguardia dell'ultima generazione e guardate che non ce l'hanno tutti in Europa e anche in America. Io vado spesso al New York Police Department e quando gli dico le nostre tecnologie mi guardano sbalardite all'assessore alla sicurezza del Comune di New York che è il capo del Dipartimento. Dice ma voi siete così avanti? Noi siamo veramente avanti come Polizia di Stato. Quali sono alcune delle funzioni rivoluzionarie? Il fatto di poter controllare, guardate, con la telecamera attiva c'è il controllo targhe il controllo targhe ti permette di controllare 60 targhe al minuto perché la targhe viene presa, inviata al cervellone e ci rispondono di metatezza. Un'iniziativa voluta dal presidente della Pescara Calcio Daniele Sebastiani che ha ricordato l'impegno promosso su tutto il territorio dalle forze dell'ordine che meritano il sostegno dei privati facendosi lui per primo promotore e realizzatore. Noi abbiamo un grande rapporto di collaborazione perché giornalmente lavoriamo in collaborazione delle forze dell'ordine per via della gestione della Pescara Calcio. Ci ha illustrato questo progetto, ci abbiamo messo veramente un attimo a dare il nostro assenso perché si tratta della sicurezza, della sicurezza di tutti, di noi tutti, dei nostri figli e quindi come dire no a un progetto del genere. E adesso i temi del lavoro. Iniziamo dalla vertenza Brioni. Ieri pomeriggio riunione Fiume fino a tarda sera. Per quanto riguarda l'avvertenza che tratta dei dipendenti dello stabilimento che produce capi di alta moda, si andrà avanti ad oltranza nella trattativa prossimo appuntamento al Mise. Si spera che sia quello decisivo per chiudere. Paolo Lorenzetti. Si fa in salita la vertenza Brioni Roma Style nella sede della regione Abruzzo in via Passo Lanciano a Pescara. Si è andati avanti ad oltranza. Dopo ore d'incontro la rappresentanza della proprietà ha abbandonato il tavolo comune di lavoro per incontrare separatamente il vicepresidente della regione Giovanni Lolli che non nasconde le difficoltà della trattativa. Stiamo parlando di un dramma che riguarda centinaia, anzi quasi mille persone perché vedersi ridotto l'orario di lavoro con la conseguenza di riduzione di salario non è una soluzione bellissima. E comunque alla fine alcune persone spero il meno possibile andranno a casa. Se poi noi riusciamo a fare, a ottenere il risultato che vogliamo, cioè che si vada a casa solamente quelli che diciamo ci vanno attraverso una decisione volontaria e con un incentivo, naturalmente è una cosa meno dura. Una volta che abbiamo messo in campo una mobilità volontaria e tutto il resto, qualora dovesse essere accettata non da tutti i lavoratori contenuti nel perimetro, cosa succede a quei lavoratori che non lo accettano? Questo è il punto della questione che stiamo discutendo, che come voi capite si tratta di esseri umani. Quindi è un punto molto, molto serio. Intanto i sindacati puntano ad un incontro risolutore nella sede del Ministero a Roma. L'Abrioni si è ritirata nelle stanze dell'assessore perché praticamente la trattativa ha preso una bruttissima piega. Purtroppo per certi versi siamo tornati un po' indietro. Stiamo continuando a trattare, adesso dobbiamo valutare la situazione e eventualmente convocarci di nuovo a Roma. L'unica certezza è che andremo sicuramente tra qualche giorno al Ministero per dirimere la situazione. La situazione è veramente in una condizione assai delicata. Dopo la protesta di ieri mattina sotto la sede dell'ASL di Teramo e il successivo incontro in prefettura, i sindacati cercano di tutelare le 38 lavoratrici della PAP, azienda che si occupa del servizio di mensa in ospedale. Per questo l'11 aprile ci sarà un incontro con i vertici della ASL. Elisa Leuzzo. Un secondo incontro in prefettura è previsto l'11 aprile sulla situazione dei 38 oggi lavoratori alla preparazione dei passi dell'ASL di Teramo. Sindacati ieri preoccupati, cosa è cambiato? Chiaramente il numero è cambiato e questo è comunque un aspetto positivo perché come diceva lei da 46 siamo già scesi a 38 ed è un aspetto relativamente confortante. L'incontro di ieri è servito soprattutto per incontrare la nuova proprietà della PAP con la quale in settimana contiamo di rivederci perché si sta cercando di capire quali sforzi possa fare l'azienda e quali possa fare l'ASL per arrivare poi a ricollocare tutti gli lavoratori attualmente ancora fuori. Il prossimo incontro si terrà lunedì in provincia perché ieri era assente l'ASL e certamente in un ragionamento del genere l'ASL avrà un ruolo decisivo così come lo avrà anche la regione con la quale ci siamo incontrati nella persona dell'assessore la scorsa settimana e quindi sia dalla regione che dalla ASL attendiamo quelle ulteriori risposte che noi riteniamo siano indispensabili per trovare la soluzione definitiva. Da dove nasce la vicenda? Perché non è dal cambio di proprietà della PAP? Sì, questa domanda mi fa molto piacere perché ci dà la possibilità di chiarire una volta per tutte che non stiamo parlando di 46 lavoratori interinali perché in questa condizione queste persone si sono ritrovate dopo che nel 2014 l'ASL fece la scelta di far passare in blocco queste persone su un'agenzia di lavoro interinale e oggi per questa scelta che noi consideriamo col senno di poi assolutamente proprio impropria queste persone si trovano messe alla porta. Chiaramente questa cosa non è accettabile lo stiamo dicendo in tutti i modi possibili e immaginabili e respingiamo con tutte le forze possibili l'idea che si vuol far passare che queste persone vanno considerate la stregua di interinali qualsiasi perché così non è. Ed oggi adesso apriamo la pagina dedicata al sisma dell'Aquila e partiamo da alcune dichiarazioni rese dall'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso si rinuncia alla prescrizione nel momento in cui il tribunale annuncia che è scattata a quel punto io ho il diritto di poter dire che rinuncio e quindi il processo va avanti purtroppo succederà il 7 ottobre fino a quel giorno posso solo affermare garantire e impegnarmi questo ha detto appunto l'ex capo del dipartimento di protezione civile Guido Bertolaso in un'intervista al sito Fanpage in relazione al processo cosiddetto grandi rischi bis nei suoi confronti in corso al tribunale dell'Aquila dove è imputato per emicidio colposo plurimo e lesioni gli eventuali reati verranno prescritti il 6 ottobre 2016 a 7 anni e 6 mesi esatti dal sisma assieme a molte altre inchieste Restiamo sempre all'Aquila ci si prepara a celebrare il settimo anniversario del terremoto inizierà questa sera alle 22 con la tradizionale fiaccolata in memoria delle vittime del sisma del 6 aprile del 2009 inizieranno le celebrazioni alle 3.32 i rintocchi della campagna in piazza Duomo per commemorare chi non c'è più il servizio di Giorgio Alessandri L'Aquila si ferma L'Aquila ricorda L'Aquila si stringe nel dolore nella memoria di quella maledetta notte di 7 anni fa che ne cambiò per sempre la storia a partire da questa sera quando alle 22 la città si ritroverà davanti il tribunale in via 20 settembre per una sorta di via crucis del dolore che si concluderà in piazza Duomo a mezzanotte sarà data lettura dei nomi delle 309 vittime cui seguirà una messa nella chiesa di San Giuseppe Artigiano ed una veglia che si protarrà fino alle 3.32 quando la campagna della chiesa di Santa Maria del Suffragio meglio conosciuta delle anime sante rintoccherà per 309 volte domani una staffetta commemorativa toccherà i principali comuni e le frazioni dell'Aquila colpite dal sisma mentre nel capoluogo alle 9.30 nella chiesa del cimitero si svolgerà una celebrazione eucaristica in memoria dei 309 angeli cui seguirà alle 11.30 presso l'auditorium del Parco un concerto della fanfara della Polizia di Stato nel pomeriggio poi una corsa non competitiva che partirà dalla caserma della finanza Accoppito che si concluderà a San Bernardino dove alle 18 le principali istituzioni musicali locali ad Abruzzesi renderanno omaggio alle vittime del terremoto con le musiche di Mozart Restiamo sempre ai temi del terremoto perché Marco Cassini attore e regista terramano ha presentato questa mattina in anteprima nazionale la sua opera Prima la notte non fa più paura che racconta il terremoto dell'Emilia vediamo Alla vigilia del settimo anniversario del terremoto dell'Aquila Marco Cassini attore e regista terramano presenta La notte non fa più paura film sul terremoto dell'Emilia nato dall'esperienza tragica di un abruzzese e un emiliano Il film è nato per strada con uno dei miei migliori amici che è un attore straordinario e lui è nato in Emilia e mi fa Marco ma com'è stato il terremoto dell'Aquila e io gli ho raccontato di quello che ho vissuto di quello che hanno vissuto i miei più cari amici e lui mi ha detto delle cose sin troppo similari da non mettere insieme per ricordare qualcosa inoltre ti dico la verità avevano già realizzato troppe cose sul terremoto dell'Aquila e non volevo essere speculativo invece tante cose del terremoto dell'Emilia ancora non si sanno un terremoto che ha coinvolto lavoratori imprenditori anche studenti gente comune gente di famiglia e questa è la risposta il mio obiettivo era quello di riuscire a ricordare una cosa del genere che ci ha coinvolto tutti ma coinvolge anche a Genova per altre calamità naturali o l'Irpinia se ci vai a pensare l'obiettivo era quello cioè di ricordare e di capire come si può superare un dramma del genere dentro al cuore una ferita così aperta ispirato a fatti realmente accaduti la notte non fa più paura è il frutto di anni di lavoro e sacrifici di un giovane cast tecnico e artistico che nonostante le mille difficoltà non ha rinunciato a raccontare una storia di vita vera un film che ricorda un dramma lo fa in maniera molto sobria offre uno spunto positivo cioè come superare la notte che è metaforicamente il momento più buio della vita di una persona la notte non fa più paura perché ci sono delle scene che ricordano tanto quello che è successo qui da noi e quello che è successo anche a Ferrara a Mirabello in tutti i posti che abbiamo girato venite a vederlo e poi ne parleremo insieme in sala questa mattina a Pescara gli ambientalisti sono intervenuti per cercare di impedire il taglio di una decina di pini secolari sul posto è arrivata anche la soprintendenza che ha operato degli accertamenti sull'iniziativa presa dall'amministrazione comunale nessuno tocchi i pini di Viale Regina Margherita gli ambientalisti scendono in strada a Pescara per manifestare tutto il loro dissenso verso l'amministrazione comunale che ha reso noto di voler tagliare alberi quasi secolari per lavori di restyling urbano annunciando anche la volontà di sostituire con nuovi arbusti quelli sacrificati Pescara è una città che ha uno standard di verde molto al di sotto degli standard europei siamo a fronte del 9% del 9% per abitante appunto nelle città europee e noi siamo al di sotto del 2% ci pare incredibile che si possa fare un'azione di questo tipo tra l'altro non consultando cittadini e associazioni competenti a spiegare le ragioni delle contestazioni degli ambientalisti ci sono anche esperti che ricordano la funzione fondamentale che gli alberi hanno nell'ecosistema primo fra tutti quello sull'inquinamento tagliarli è veramente l'ultima spiaggia poi comunque una pianta di 70 anni non è assolutamente paragonabile a una pianta giovane cioè la funzione che fa cioè per esempio l'assorbimento dell'energia carbonica è tutta nel fusto una pianta giovane non c'è la fotosintesi lo fa la chioma poi una pianta vecchia è una pianta che dà tante nicchie ecologiche ospita insetti ospita uccellini ospita insomma tutta una fauna che nelle piante giovani non si trova nel corso della mattinata poi a scendere in campo anche forze politiche di Carlo Masci l'iniziativa di chiedere l'intervento della sovrintendenza che prontamente ha operato un sopralluogo dimostrando di non essere a conoscenza della situazione ma io penso che la sovrintendenza bloccherà questi lavori li sospenderà con un provvedimento ad hoc perché doveva essere interpellata perché questa via è un patrimonio culturale ambientale della nostra città e non si può pensare di abbattere 19 alberi 19 pini che costituiscono veramente l'essenza di Pescara il sindaco di Roseto Ennio Pavone ha annunciato novità per il Borsacchio fra cui il piano ambientale naturalistica e la nuova associazione che gestirà la riserva sindaco Pavone parliamo della riserva del Borsacchio ci sono novità sul PAN ma non solo sì la riserva del Borsacchio che in questa città ha tenuto banco per tanti anni questo argomento ecco finalmente noi siamo riusciti anche a concretizzare alcuni atti amministrativi che erano bloccati sicuramente per non per cattiva volontà ma perché c'erano degli incarichi dati precedentemente per la compilazione del piano di assetto naturalistico alla famiglia Negro e noi abbiamo dovuto prima chiudere i rapporti con il professor Negro e i suoi eredi con un atto di transazione che abbiamo concluso nel mese di dicembre e quindi adesso siamo arrivati ad affidare la revisione del PAN prendendo tutto quello che di buono c'era in quello precedente e togliendo quello che invece secondo noi non andava bene e abbiamo affidato all'architetto Fabrizio De Gregorisi l'incarico di reedigere il piano di assetto naturalistico abbiamo anche affidato la gestione dell'associazione Ambiente e Vita e anche poi all'avvocato Benigno Dorazio il piano di attuazione questo pseudo commissariamento che la regione ha fatto qualche mese fa ma che in realtà non poteva nei termini in cui l'ha fatto e che è servito solamente a dare adito sulla stampa a rimarcare le problematiche inerenti alla riserva del Borsacchio le attività le stiamo facendo e stiamo andando avanti in base a quello che erano i nostri programmi finalmente una riserva che diviene fruibile diviene visitabile e che finalmente sarà a tutti gli effetti un'altra arma in più per l'offerta turistica di questa città un vanto di questa amministrazione che può continuare a portare avanti un lavoro svolto e che ci auguriamo quindi possa durare per tanto tempo adesso torniamo a Teramo per vedere insieme il convegno Costituzione Economica e Democrazia Pluralista un convegno che girerà gli Atenei per la prima volta in Abruzzo 130 studiosi di 40 università di 8 stati si incontrano in occasione del convegno Costituzione Economica e Democrazia Pluralista un convegno internazionale della sezione italiana dell'Istituto Iberoamericano di Diritto Costituzionale dedicato a uno dei temi più attuali del processo di trasformazione costituzionale in atto quello del bilanciamento tra gli imperativi della Costituzione Economica e i valori della Democrazia Pluralista l'Istituto Iberoamericano di Direzione Costituzionale che è la maggiore espressione del diritto della giurisprudenza latinoamericana ha una sezione italiana di cui faccio parte io il professore Mezzetti il professore Romano Ruh di cui fanno parte praticamente i professori dell'università abruzzese alcuni e in questo senso abbiamo lanciato questo è il secondo elemento di cui si tiene conto un sistema universitario abruzzese superando le burocrazie e le politiche noi lo facciamo sul piano scientifico sostanzialmente le tre università ora stanno lavorando insieme per fare in Abruzzo un convegno che farebbe tre maripolsi a Università del calibro della Bocconi o della Sapienza di Roma il terzo elemento è il contenuto il convegno ha come tema la Costituzione Economica cioè l'elemento di equilibrio più delicato che deciderà in questo momento e in futuro il futuro stesso degli stati il futuro stesso della democrazia e noi abbiamo provato a declinare in tutti i modi possibili dalla finanza pubblica alla moneta all'euro l'uscita all'euro l'Europa il multilivello il mercato la liberalizzazione e poi la globalizzazione poi TTIP i BRICS e poi l'Unione Europea diciamo la corruzione che è un elemento notevole Il convegno si concluderà con una tavola rotonda dal titolo Sovranità Economica tra istituzioni di garanzia e istituzioni rappresentative alla quale parteciperanno insieme a studiosi di varie nazionalità il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini e il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone il 7 aprile presso l'auditorium del rettorato di Chieti Il sindaco di Loreto Starinieri esprime soddisfazione per il finanziamento della nuova caserma dei Carabinieri a seguito della riunione ieri in regione con i comuni di Manopello e Giulianova Finanziamento importante per il comune di Loreto Aprutino che si è visto destinare ieri 700 mila euro per la costituzione di una nuova caserma dei Carabinieri un'opera per cui stavano già lavorando da tanto e che ha visto l'incontro ieri in regione con Luciano D'Alfonso e con i sindaci dei comuni interessati tra cui appunto Gabriele Starinieri di Loreto Da più di un anno abbiamo affrontato il problema della costruzione della caserma a dire il vero è la prima volta che si costruisce una caserma dei Carabinieri a Loreto in precedenza erano sempre strutture riadattate ad ospitare i Carabinieri quindi ecco colgo l'occasione per ringraziare il governatore D'Alfonso che ha ravvisato la necessità per la sicurezza dei territori ma anche per l'esigenza degli operatori della sicurezza di essere raccolti strutture idonee quindi noi di Loreto l'amministrazione io in prima persona da più di un anno all'acramenta abbiamo lavorato e il traguardo di ieri avere un finanziamento adeguato noi abbiamo a disposizione un terreno quindi basterà sarà frutto di accordi con il comando generale dei Carabinieri per fare il progetto comunque la cosa è certa entro un anno e mezzo a Loreto sarà inaugurata la caserma dei Carabinieri Adesso la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano il Pescara oggi seduta pomeridiana per i Biancazzurri che continuano a preparare l'anticipo di venerdì ad Avellino in attesa di esami più specifici il difensore Campagnaro sarà fuori per almeno un mese a causa di una lesione muscolare al sole o del polpaccio destro sarà ancora emergenza difensiva per il tecnico Massimodo che potrà contare sul nuovo sull'apporto del nuovo arrivo Vitturini che ha ben figurato contro il Como ascoltiamolo abbiamo indirizzato subito la partita nella maniera giusta segnano due gol dopodiché ovviamente nel secondo tempo abbiamo un po' sofferto perché dopo il gol loro hanno preso coraggio quindi abbiamo dovuto soffrire però questa vittoria è molto importante per noi perché ci ridà un po' di morale abbiamo dimostrato nuovamente di essere uniti e adesso si pensa già a Avellino che sarà sicuramente una partita molto difficile e dovremmo essere dovremmo rinterpreterlo nello stesso modo sappiamo che avremmo sofferto nel secondo tempo perché comunque loro dopo il gol ripeto hanno preso coraggio e ci hanno messo un po' in difficoltà sono una squadra che si deve salvare e quindi ce la deve mettere tutta Davide parliamo anche delle prossime gare soprattutto della prossima gara perché venerdì ci sarà questo anticipo importante da Avellino Pescara che sarà costretto a rinunciare ancora una volta a diversi titolari tra infortuni e squalifiche sì purtroppo il campionato di Serie B è lunghissimo lo sappiamo è difficile quindi questo fa parte del campionato di fide squalifiche infortunati ma la rosa secondo me è di alto livello e quindi non abbiamo problemi in Lega Pro voci di mercato su Marco Perrotta difensore del Teramo su di lui ci sarebbe il Pescara pronto a rilevarne il cartellino a fine stagione il centrale però resta concentrato sul finale di stagione con i biancorossi a cui manca solo la matematica certezza della salvezza che potrebbe arrivare sabato nel match dell'Artemio Franchi contro il Siena è stato un episodio brutto perché comunque ancora stiamo insultando e riprendere il gol così è stata davvero una beffa perché fino a quel momento avevamo preso un tiro in porta e quindi io personalmente sono molto deluso perché comunque avevamo preso pochissimi gol e prendere uno così mi fa veramente arrabbiare i miei compagni mi aiutano comunque mi danno una grossa mano anche a non sbagliare quindi mi sto trovando bene a mio agio non sto avendo nessun tipo di problema credo di essere maturato tanto anche con l'aiuto del mister quest'anno perché diciamo abbiamo cambiato un po' modulo dall'anno scorso siamo più un 4-4-2 e quindi mi sto trovando molto bene comunque se andiamo a vedere le partite inizio anno e andiamo a vedere le partite di ora credo che ognuno di noi sappia fare meglio il proprio ruolo quindi dobbiamo ringraziare solo lo staff per questo perché comunque ci aiuta a crescere per magari per un futuro diciamo migliore per tutta la squadra il mister è molto comunque fissato sulle palle inattive infatti cambiamo sempre ne cambiamo tantissime abbiamo circa 30-40 non lo so a parte dipende se loro come si mettono a zona uomo cambiamo di schema in schema fino a giugno penso a giocare nel terreno perché ci sono ancora altre partite da giocare noi dobbiamo comunque raggiungere l'ottavo posto per arrivare in team cup l'anno prossimo per noi è un obiettivo importante perché stanno abbiamo fatto credo una bellissima figura in team cup e quindi diciamo vogliamo ripeterci l'anno prossimo poi andrò in vacanza con calma e poi si vedrà nel futuro ancora non parlo con nessuno non parlo della società ma io mi sento bene a terra e quindi voglio finire la stagione qui e poi si vedrà è tutto per questa prima edizione del TG6 io vi ricordo i prossimi appuntamenti alle ore 19 alle 23 grazie per essere stati con noi buona giornata grazie a tutti